Allora, buon pomeriggio al nostro meteorologo, ciao Filippo. Buon pomeriggio Sveva, buon pomeriggio a tutti. Allora, hanno cominciato a mandarci le foto ai telespettatori, delle loro immagini del cielo, delle condizioni meteo? Sì, partiamo oggi con una foto di un nostro telespettatore, Paolo De Michei di Trento, che ha fotografato per noi questo arcobaleno. La particolarità di queste immagini non è tanto, chiaramente, nell'eccezionalità del fenomeno, senza una togliere alla bellezza sempre di vedere un arcobaleno, quanto nella scelta dell'inquadratura perché siamo in Piazza Dante a Trento, quindi quella è la stato del nostro sommo poeta e lui ha scelto questa inquadratura in cui l'arcobaleno sembra dipanarsi dalla mano del nostro poeta. Perché si vede quasi sempre l'arcobaleno a metà? È così raro riuscire a vederlo tutto intero l'arco? Perché l'altra metà è semplicemente sotto l'orizzonte, cioè chiaramente l'ottica forma... No, ma anche nel cielo a volte non riesce a fare tutto un arco. Dipende dalle condizioni di visibilità. Vedi, non si vede tutto. Anche quando abbiamo la visibilità, nel senso dell'orizzonte libero, è sempre anche un problema di purezza dell'aria, di rifrazione dell'aria. Perché dobbiamo avere comunque le goccioline che creano il fenomeno della dispersione della luce in modo tale da poter separare la luce. È bellissimo, arcobaleno. Andiamo sulla attualità.